non so perché come comincio a girare a registrare diventa tutto più buio mi viene nervoso devo cambiare l'applicazione non lo so cosa succede perché non riesco a regolare la luce secondo me viene buio anche dopo sapete della mia delusione della tremenda delusione che mi ha dato burdamaglia perché mi aspettavo dei bei soggetti natalizi volevo dei begli sproni dei bei modelli delle belle idee, varie idee anche una ricetta guardate ti mancano? no, è vero sto scaricando da qualunque faccio di quegli screenshot e poi piango perché devo fare pulizia e mannaggia mi devo ricordare che poi si oscura la vallata qua e no no è proprio un bordello un numero così imbordellato di stili di idee, di cose non tutte brutte, non lo cestino ho pensato, ora lo regalo perché sono arrabbiata cosa regalo? ci sono i modelli che mi piacciono e soprattutto ho dei filati perché poi io le riviste le utilizzo nelle chiacchiere intorno al tavolo della Paolina quando organizzo i miei incontri in casa con i miei allievi e quando ci si trova magari al bar anche per i niti caffè i niti caffè vabbè, non mi piace quando andiamo a fare le chiacchiere insomma davanti a un cappuccino la cioccolata calda ancora no di sotto perché mi piace il cappuccino la cioccolata calda me la faccio buona anche da sola i cappuccini di soia perché non ti puoi prendere ma non me li bevo tutti i giorni quanto mi dura un litro di latte? anche no e poi mi piace che me lo facciano con l'espresso anche se io poi in casa preferisco la cosa, la caffettiera, la moca rigorosamente, la mochina la mochina vabbè, insomma ecco, le riviste mi sono proprio uno strumento di lavoro di chiacchiera, di didattica proprio e sono interessanti dare degli esempi questo filato con questo guardate questo analizziamo le immagini come faccio con voi quando chiacchiero quando vi sfoglio le cose avrei dovuto togliermi arrivano di quelle notifiche lassù del tablet vabbè e allora ho pensato l'ho già nominata lei 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 è Teti Lusac non so come si pronuncia il suo nome Santa Pace il sito suo è questo visitatelo ha una pagina Raverly ha un suo negozio Raverly ha il suo sito ha un canale YouTube visitatelo per piacere sosteniamo questa ragazza perché lei è la mia designer preferita ma c'è neanche c'è anche una nordica che non ricordo io con il nord la maglia ci vado d'accordo ma anche con le francesi devo dire in Italia adesso mi viene in mente nessuno guarda se non si offenda non mi viene in mente nessuno perché penso al Natale penso alla maglia di Dicembre perché oltre che al Natale guardate lei ecco cercate il suo sito è quello ora mette a fuoco vedete qua o andate a visitare il tito il tito di teti il tito di seti o mannaggia ecco mettiamo lei va ecco la sua maglieria si devo pensare Natale i golf di Natale i soggetti classici i soliti le renne come sta facendo Camilla Babbo Natale e che caspita ne so tutto quello che le stelle no queste cosine qua le troviamo ce le abbiamo in giro non so come mai loro non siano riusciti insomma la redazione a mettere insieme dei servizi decenti qualcosa di decente hanno messo delle dec che le avrei cestinate proprio io mi sento offesa come lettrice cioè quel progetto che mi ricorda la guardia svizzera e magari fossero che il dietro in un modo bisogna per forza fare le cose strampalate per fare delle proposte no non è una proposta bella di gusto mi offende veramente quella maglia non so chi l'ha studiata mi dispiace anche a me escono follecafate mica dico oh come me ne sono mai però ecco ma mica le sto a pubblicizzare faccio una cernia e ti dico vabbè Lorenza l'hai fatto era meglio non farlo e si va avanti oh marema bella ma aspetta volevo una maglia della maglieria vabbè c'è della maglieria invernale con i filati cicciò con le maniche tutte grosse va bene c'è c'è ci sono diverse proposte infatti non la cestino alla rivista per carità me la tengo mi serve l'ho pagata no poi non sopporto le regalo dico vabbè ci trovi qualcosa che ti piace sì allora è tua perché posso cominciare a essere veramente saturo anche qua lo so però ho ancora le scale le scale avevo già messo tutte le riviste suddivise per argomenti non tutte una parte nelle scale poi sono arrivati in muratore dovevo togliere tutto poi sono riuscite comunque un muratore il mattonaro come lo chiamano ha riuscito a farmi disastri comunque perché ha pensato bene di tenere spalancata di aprirsi la porta del bagno quando ha segato le mattonelle dico ma fallo fuori no ma ha sentito urlare per tutto il paese ma io mi arrabbio guardate che l'ho pettinato e ci ha provato a farsi le sue ragioni che non aveva ragione per niente ho urlato come una iena vabbè comunque non mi voglio arrabbiare e quindi pensando qual è la Lorenza ma allora la tua maglieria di Natale cosa ti aspetta Teti lei lei è la maglieria di dicembre ma perché a gennaio non la metti ma sì che la metterei se ce l'avessi già fatta me l'avessi ho il cappotto da finire che è là perché perché devo recuperare il muer che Oreste mi ha danneggiato sull'arcolaio non trovo più il bandolo ma me l'ha strappato in 10.000 punti lo rincoro mio gatto è colpa tua non è colpa mia perché non me li tocca quasi mai ma quando vuol fare i dispetti Oreste ecco se la prende con quello che trova e sa che cosa sa dove agire e come disgraziato lui che è di là che dorme e non vuole uscire perché fa un freddo gatto fa un freddo cane un freddo polare dobbiamo uscire anche con la mimina fa finta di niente ma dobbiamo andare insomma quindi lei lei vabbè ma tanti fanno i maglioni invernali i maglioni ho capito ma lei il suo stile i suoi colori io amo lo stile di te lei proprio li vorrei tutti qualcuno mi vuole regalare ecco i maglioni già fatti i filati che lei propone il punticolore la trovo originale trovo che abbia un legame con le sue tradizioni che riesce a proporre proprio così con una grazia con una modernità quanto mi piacciono guardate i suoi i suoi pattern e diversi sono anche in italiano e quest'anno dico ma come mi viene da dire ma beh Lorenzo ma te che ti ascono dalle orecchie che vai a sostenere gli altri e te che ti sostiene lo so però però viene questo moto di dire vabbè qualcosa per te e allora quest'anno mi voglio ricomprare mi voglio regalare adesso non posso perché devo finire di fare delle cose a Camilla e altre cose che non sto qua a dire ma mi voglio regalare tre pattern suoi intanto di botto così ce ne sono tre che mi piacciono da morire i calzini abbinati al suo golf oddio quanto sono carini e un golf e un vestito che poi un golf trasformerò in abito io li amo gli abiti in maglia ma non quelli aderenti che segnano tutte le forme ovviamente ho la vita stretta poi c'è tutto un tripudio di meraviglie e a trapezio stanno bene quasi a tutti gli abitini a trapezio stanno bene a chi ha i fianchi stretti che ha tante puppe che ha le braccia un po' più robuste sono quelle che poi tendono ad avere i fianchi stretti e le gambe che scendono giù dritte come degli stambecchi ecco io non ho quel fisico lì sono una una clessidra una clessidra di quelle panciute da una parte ecco quindi la vita stretta stanno abbastanza poi fum che si allargano quanto mi piacciono senza esagerare ma anche quelli un po' esagerati un po' larghetti mi piacciono mi piacciono insomma e vestire di lana mi piace cosa ti metti poi è vero che con i calzoni siamo comodi siamo doppiamente dico doppiamente protette perché io sotto poi metto i collant termici sono mega matta oggi c'avevo quelli calzoni le scarpe calde il cappotto una sciarpetta bella sotto questa mia sciarpa in in meravigliosa tutto meravigliosa che ho fatto con filati presi da Cinzia Zengiaro c'era una volta la lana di Irlanda e lì mi fa un caldo perché avevo la maglia un po' più scolatina e poi sopra un'altra sciarpa il mohair e lana che anche quella quella sciarpa la uso spesso come esempio quando faccio vedere che due filati 50% lana 50% mohair più o meno spessi uguali ma con aspetti completamente diversi fanno già motivo loro due a parte un filato è rosso uno blu un bel rosso un bel blu e un bel rosso ecco di te ti amo i rossi come riesci a prendere questi rossi così belli nei nocciola lei è proprio poesia la adoro la adoro perché ha gusto nello scegliere i filati la adoro proprio per tutti 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 quel gilet che ha fatto da poco che ricorda un suo golf è bellissimo sì vengono in mente le camicie con le maniche a sbuffo vengono in mente delle belle cose vengono in mente dei bei momenti è elegante poi nella sua no non si può dire rusticità non c'è niente di rustico è elegante e caldo bello calde le tonalità questo è femminile delizioso senza senza esibizioni di che di che adesso vogliamo se scorriamo non è noiosa secondo me poi altri se noieranno non lo so anche in queste trecce guarda il particolare del fianco questa treccia più larga questi suoi meravigliosi sono un po' più belli ecco lui io amo proprio accenditi vediamo un po' se si accende ecco lui lo trovo bellissimo il vestitino sotto lo vorrei pure io te lo metto io li uso tantissimo i gilet così come mi incrocio le sciarpe che le faccio belle lunghe proprio a modo incrociatino mi piacciono i gilet mi metto i gilet con le camice mi piacciono tantissimo e lui è bellissimo questi colori lei ha questo marchio di fabbrica ho voluto parlare di marchi ha questo questa sua firma ecco lei è riconoscibile e non è mai scontata non è mai banale è così deliziosa nei suoi capi mamma mia quanto mi carba guardate ecco qua questo polso scuro lavorato anche il polsino voi non lo vedete perché è buio il mio schermo è buio mannaggia ecco ma vediamo un po' se lo prendo un po' più così abbiamo il ring abbiamo anche una luce che cala dall'alto poi però c'è il telefono che oscura la vallata guardate i suoi progetti i suoi berrettoni no vai via oh lo scialle questo tema questo scialle è bellissimo come lo faresti non lo so che l'hanno usato lei però una bella scelta con un ciccinini di Kid Silky ce lo sbatterei ma ma tanti ne potrei ho del cammello meraviglioso che ho tenuto per me veramente l'ho tenuto per fare uno scialle a telaio ma poi dico no lo tengo per me lo faccio per me è bellissimo un cammello baby di lane cardate bellissimo essimissimo ecco questo scialle lo trovo di una bellezza i particolari dei colli uh ma smettila un po' te la mostro tutto è certo che mi devi mostrare tutto tanto poi voi ve l'andate a cercare ne è vero adesso ve l'andate arriva oh anche questo golfino questi polsini questo motivo questo sembra un bel fiore intorno al collo viene voglia di provarle tutte le lane che lei propone vedete qua oh questo golfino ecco il gilet è nato dopo questo golfino ma guardate un po' com'è questo golfino allora ma sta bene a te sì a me mi sarebbe vero perché poi sotto c'è qualcosa di largo sì ecco questi golfini cortini mi stanno benino che stanno più su della panzetta con sotto le cose lunghe insomma è un gusto che mi corrisponde è un berretto guardate che bel color zucca non so perché il cellulare mi sfalza i colori ah che bei capelli oh ma guardate che romantico queste belle maniche questo particolare dei petali davanti questa scollatura e l'acettino tubolare sono belli lei è proprio bella semplice senza mascheroni di trucco orretti guardate quanto è carina sta ragazza sti capelli che mi c'erano anche i capelli così ma quante volte hanno portato i corti adesso tanto ci penso di colorenza ma perché non ti vuoi tagliare i capelli nuovi un po' corti poi li lasci crescere no mi dico no vabbè perché poi non lo faccio più e mi tocca tenere i capelli corti da anziana me li devo fare ho i capelli bianchi in mezzo oh no ma tanto ce l'ho sempre legati guardate com'è com'è delizioso questo scialle eccolo lui che torna il gilet i calzettoni io li amo questi calzettoni ma guardate quanto sono carini quanto sono carini e li indosserei anche uno uno di un modo uno di un altro guardate lui lui è bellissimo guardate quello scollo guardate questi ramage le manichine e poi lo fate lungo come vi pare ma io l'amo ma guardate l'amo l'amo proprio ecco li vediamo il suo scialle bellissimo avete visto che belle cose che propone a proposito polvere di colore a crochet avete visto andate a vedere polvere di colore oh e questo e questo guardate questa fuga queste trecine questi torsion guardate come nasce è di un'eleganza di una meraviglia queste maniche larghe come abbiamo visto che usano così un po' a tubo a tubo imbuto bellissime in questo filato ecco riesco ancora a infilarle sotto i cappotti volete i rilievi abbiamo pure i rilievi guardate che bello con questo sempre tema con questo sempre tema sentite come parlo questo tema di fili passati in orizzontale e questo bel vestitone te lo metteresti Lorenza certo lo farei della mia misura mi piace così in morbido lo farei un po' più largo anche con il bordo giù che poi mi ammazzo troppo lungo no più largo ovvio ma le possiamo fare a misura le cose sulla nostra fisicità insomma senza crearci dei guai dei fastidi guardate come sono belli anche le foto sono molto belle anche questo golfino con questi colori disposti così questo colore questo verde erba bagnata erba d'inverno che non sta bene quasi nessuno vicino al viso però con questo stacco eccolo sta bene sta bene oh guardate che belli altro scialle e questo scaldacollo carino guardate questo davantino un davantino si facevano davanti quanto usavano negli anni 80 i davantini di 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 cotone e bello spesso come gli sparati sotto le giacche da sera oh carino eh quei bottoncini guardate che romantico questo con questa bella manica con questa bella scollatura e queste buffe e nappette mamma mia ma la trovo veramente ecco tutti li vorrei tutti li vorrei su di me eh che bella anche la collana di coralli ma guardate che carini questo poi sul blu mi immagino un bel blu infatti c'è il blu un linone bello spesso oppure un lino spesso di quelli anziani di lini che sembrano quasi che diventa da un tessuto proprio anche rigido che ricorda quasi la lana perché è un poco buchicchia io ho dei calzoni che devo far sistemare li amo tantissimo sotto ci metto il collano di lana eh ma quanto sono bella mi dimentico devo portare la sarta a far aggiustare devo fare una modifica in vita ecco guardate che belli ecco i golf di natale io a lei direi Teti pensa a una collezione proprio natalizia lei sarebbe perfetta lei sarebbe perfetta guardate bello anche questo berrettone ma rivedetevele voi con la giusta luce ovviamente eh lo so che dovete farla appunto agli occhi come direbbe mio padre eh così tanto per ricordare la maglieria bella da dicembre è bella anche in primavera cambiamo i colori ma ecco a dicembre cosa ti fai un bel golf di Teti mi faccio ma quanto è carino il basco così che non è un vero proprio basco quando è così eh ma guardate che bello golfino le maniche ce ne sono per tutti i gusti guardate le maniche li fa di guardare bellino anche questo quanti filati quanto è bravo perché ha un occhio un gusto guardate bellino di nuovo anche un motivo così queste tre gliele voglio fare alla camillina gliele voglio a mamma voglio lasciare un po' di golfino alla bimba ecco guardate che bellino bello 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 anche questi calzini queste forme da calzio voi ce le avete io no guardate che Lorenza ma se non finisci di fare i calzini non so ho tutti i figli unici di madre vedova io andiamo guardate bellino anche questo questi rilievi lei è veramente elegante guardate che bel tappeto bel kilim altro berrettino calzini tra petari guardate che bello guardate che bello perché non è natalizia una cosa così ma se volete mettete un ecco fate le virtuose mettete un punto luce tono su tono nel rosso andate a sciare portate le fate il capodanno guardate che bello anche sto gilet lo so che è buio andatevelo aprire il sito no e questo e questo golfino lei se lei pubblicasse un libro con la sua collezione con la traduzione in italiano però che divento cretina e invece voglio voglio le traduzioni guardate come è bello l'avremmo già visti sì sì i golf con le trecce come vi pare però lei ha sempre quella nota originale vuoi nel tubo della manica vuoi nell'ampiezza del collo non sono mai banali il punto di colore ma che carino poi io voglio i suoi vestiti tra l'altro sono i miei guardate che carino io anche a 800 anni mi vestirei così figuratevi guardate quel bordo bucato come è bello il polsino io amo questo stile lei per me è la meglio guardate quanti modelli diversi quante spalle diverse è vero tanti sproni tondi ma non solo tanti buchini quante cose lei io l'amo l'amo proprio tanto mi piace come il suo stile di fare belli le sue location sono belle guardate che bellina che è la vorrei come figlia in più Camilla e Tetti quante figlia una l'ho adottata anche se non c'era bisogno così perché che bello la stimo è brava è brava è proprio talentuosa mamma mia anche un berrettino semplicino con questi tocchi qua e là ecco andate a scoprire quali filati ha usato guardateli bene quei filati guardate com'è bellino questo anche questo lo vorrei come vestito ecco un vestito così sì io d'inverno sono nordica sono dispezia ma è la lana ma sì la lana sempre anche la fascia è bellina con quelle noccioline con quelle con quella catena lì a rilievo i suoi mohair ma guardate che bello quel collo semplice un po' primitivo belli questi fiorelloni questa bouclée che cos'è sta lana è bellissima la chiama camicetta e questo berrettino ma che gli vogliamo da lì non è un berrettino natalizio con questo bel rosso scuro rubino radice di rubino belli 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 li guardo e mi vien voglia di farli tutti poi sono lenta come una fame sono ancora sto qua a chiacchierare con voi c'è da portare fuori il cane e da finire il golfo a Camilla lavare un sacco di roba che ho lasciato in giro nell'acquaio e andare a letto perché poi domani mattina arriva domani pomeriggio arriva la Cami e abbiamo tante cose da fare però ci tenevo perché mi devo riprendere dal trauma ecco io ho il pat che poi è semplicissimo l'ho preso perché volevo l'ho preso in spagnolo perché volevo capire insomma prendo il spagnolo e vediamo se me la cavo non ci ho capito niente è spagnolo figuratevi un po' lo parli ma figuriamoci guardate un po' bellino ce l'ho ancora lì da finire il dietro l'ho fatto c'ho da fare davanti e le maniche tacimi e con che cosa con una delle lopi ciccione e il kid silk che ho sull'arcolaio qua guardate quanto è carino anche questo modello mamma mia ma guardate anche la fascetta ditemi che non è brava guardate vi accontenta in tutti gli stili cosa vuoi dimmi lei mi chiede cosa ti manca c'è anche un pattern gratuito in giro andatelo a cercare però se la sostenete è meglio ecco regalatevi un pattern ce l'ha in italiano guardate che bellino che è anche questo golf sembra blu ma non è blu purtroppo però sì forse c'è del blu maglione Donegal che belle lane che belle lane che belle lane che belle lane che bei filati che bei progetti che belle foto che belle cose che belle belle che belle belle guardate è tutto bello abbiamo anche delle coste ritorte un'altra fascetta caruccia basta abbiamo finito ciao tetti oh allora mi raccomando adesso ve lo faccio rivedere andate e cercate tetti lutzac non so come si dice bisognerebbe chiederglielo o che qualcuno ce lo dicesse o metti a fuoco tontolo non mi mette a fuoco no avete visto www tetti quellarabali punto com andate fate compagnia sta ragazza regalatevi un bel pattern a natale volete lei un pattern suo oh cosa mi sono fatta una bruciatura nella mano taci mia ecco il dolore mi sono provata via la carne viva va bene allora Lorenza cosa ti regali tre progetti suoi i calzini il vestito e un golfetto a splone rotondo adesso poi faccio scegliere anche a Camilla via lei la adoro e poi è bei filati quelli veri quelli che non ci prendono in giro quelli che non ci spalmano lino finto e e l'alpaca che non la un 80% di alpaca che non si è vista è passata ma non si vede non c'è un 80% è alto se deve da vedere l'alpaca signori ecco proprio una raffica di zozzeria arrivederci ciao a presto a presto buonanotte buonanotte più tardi lo scatolino domani è lotto l'immacolata santa mamma mia quanto ci deve da proteggere la nostra Maria qui domani è la festa sua vediamo Bergoglio cosa si inventa domani mamma mia quanto 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 male quanto male